Siamo qui al Cesar Palace di Milano per una partita di gran livello tra picchiomania e il professionismo dei vecchi tempi della Commodore. Vabbè ma perché queste sono tattiche per confondere l'avversario, attenzione va vicinissimo al vantaggio, poi se la prende con il cartellone pubblicitario a portocampo. E' bloccato! E' bloccato! Sarà un torneo un po' complicato... E' bloccato! E' bloccato! E' bloccato! E' bloccato! E' bloccato! Grazie a tutti